Sono in calo i ricoveri dei bambini e dei ragazzi italiani di età compresa tra 0 e 18 anni affetti da coronavirus. In una settimana sono diminuiti del 30%, anche se il long covid ha determinato un boom di richieste per cure e assistenza con un carico ulteriore per gli ospedali. Una buona notizia, commenta il professore ordinario di pediatria e direttore della clinica pediatrica dell'Università di Chieti, Francesco Chiarelli, che è presidente della Società Italiana di Pediatria della Regione Abruzzo, il quale ribadisce l'importanza della vaccinazione anti-covid e plaude all'arrivo di nuovi vaccini e nuove cure farmacologiche. Il carico sugli ospedali, che è poi uno dei problemi maggiori di questo virus, si sta progressivamente riducendo in tutta Italia. La Società Italiana di Pediatria, non io ma tutti i pediatri italiani, hanno molto chiaramente indicato che la vaccinazione è necessaria, direi indispensabile anche nei bambini. Devo dire che complessivamente la percentuale sì, non è stata forse entusiasmante, però ricordiamoci, ed è stato segnalato anche dall'Istituto Superiore di Sanità recentemente, che ben il 91% degli italiani si sono vaccinati, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno. Certo sarebbe stato meglio se anche i bambini fossero stati vaccinati, ovviamente implementeremo questa cosa anche negli anni a venire, ma noi sappiamo che i vaccini sono stati di un grande progresso dell'umanità, pensiamo alla poliomielite, pensiamo alla meningite, pensiamo alla difterite, quindi sicuramente anche per il covid c'è stato questo grande passo avanti anche dal punto di vista scientifico e epidemiologico. La scienza va avanti, questo dobbiamo dire a chi ci ascolta, la scienza va avanti, bisogna credere nella scienza e la scienza ha consentito di avere, rispetto a due anni fa, non ci dimentichiamo come eravamo due anni fa, due anni fa eravamo a mani vuote praticamente, a mani nude, oggi abbiamo alcuni ottimi vaccini, non solo uno, ce ne sono tanti, di varia metodologia, abbiamo degli anticorpi monoclonali molto efficaci nei confronti del virus, abbiamo un antivirale dei Plaxlopid che è estremamente efficace soprattutto se viene somministrato nei primi giorni di malattia, quindi io mi sentirei di dire senza eccessivo ottimismo che prima o poi questa storia finirà.